Hola Hero! Oggi video di concetto per neoimprenditori, per freelancer o per persone che vogliono sviluppare un loro progetto di natura imprenditoriale ma si ritrovano momentaneamente spaventati dalla tassazione italiana. Ho detto momentaneamente spaventati e in questo video ti spiego le ragioni, alcuni aspetti che ho trovato nella vita mia di tutti i giorni da imprenditore che attualmente non sono più in Italia, ho spostato la mia sede operativa, però magari spiego anche il perché di questo spostamento e spiego anche perché poi l'Italia non sia così male per iniziare, soprattutto se sei cittadino e residente italiano dalla nascita. Il primo aspetto, consiglio che voglio darti è di non avere paura prima di iniziare. Cosa intendo? Intendo che molte persone anche all'interno della community pubblica, anche in quella privata oppure anche amici conoscenti che si avvicinano a questo mondo e dicono vorrei iniziare questo progetto però ho paura perché ho sentito in Italia si pagano 50%, 60%, 70% di tasse. Come faccio? Non farti adesso questo problema. Inizia con il produrre reddito, sviluppare capitali. Quali sono i processi operativi all'interno della tua attività di freelancer? Quali sono i clienti, i target con i quali devi lavorare? Queste cose sono le più importanti all'inizio, quindi non avere subito paura di comprendere quale possa essere la pressione fiscale. Inizia a produrre reddito, poi successivamente hai tempo per andare a ripulire, mettere a posto la situazione e andare a metterti in regola in maniera fiscale e capire anche quale struttura fiscale possa essere migliore per te anche in Italia. Ho parlato di strutture fiscali e quindi veniamo al secondo punto. Esistono diverse forme anche agevolate in Italia per favorire l'imprenditoria di persone giovani agli inizi e perché no, le puoi sfruttare queste cose. Ora possiamo fare due grandi distinzioni. Punto numero uno, magari stai sviluppando un'attività da freelancer di natura consulenziale o vuoi prestare servizi che non richiedono troppe spese per essere prodotti. Cosa intendo? L'attività di copywriter o l'articolista può essere uno di questi esempi, in quanto non è che hai grosse spese che devi mettere in bilancio con uscite da dedurre. Assolutamente no. Hai costi molto ridotti e quindi più delle volte si parla quasi di puro e solo utile dalla parte che viene incassata. Quindi nel tuo caso può andare bene un regime forfettario. Inizi con questo, comprendi come ti trovi. Di certo anche il commercialista ha un'attività agevolata nel tenere la tua contabilità. È molto molto più semplice e puoi iniziare da questo se fai questo genere di attività. Quindi se presti servizi di natura consulenziali o servizi ad aziende. Così come se invece hai di mezzo alcuni prodotti, vai a sviluppare processi produttivi, forse è meglio che prendi in considerazione delle società di capitale. Nel caso italiano si può parlare di SRL. La costituzione di un SRL standard può avere dei costi abbastanza importanti, nonché anche un capitale di una modesta entità. Magari le persone agli inizi non dispongono di questi capitali, non c'è nulla di male, non c'è nulla per la quale spaventarsi, ma esiste la SRL semplificata, SRLS, quindi con capitale ridotto, i costi di costituzione sono nettamente inferiori, sono proprio degli spunti che saranno per agevolare il neoimprenditore a sviluppare il suo percorso lavorativo. Effettivamente poi escludendo questi due punti, la differenza tra SRL e SRLS non è che sia molto molto diversa, nel senso che a livello di costi operativi durante l'anno sono indicativamente sempre gli stessi, i costi di gestione sono sempre quelli, però almeno per iniziare uno ha un peso minore e quindi può essere aiutato a fare il primo passo. Terzo mio punto di vista che voglio passare a te per farti capire che la tassazione in Italia non è poi così male, è iniziare a comprendere che ogni Stato, ogni nazione è un fornitore di servizi, è come se fosse un tuo o fornitore o socio, vedilo un po' come vuoi, alla quale devi riconoscere un reddito. Io preferisco vederlo come fornitore di servizi, alcuni dicono no, è un socio silente che prende i soldi da te, no, no, diciamo che così è un po' più pesante. Se invece vedi lo Stato, lo Stato italiano come fornitore di servizi, che va a passare determinati servizi per la tua persona, per il tuo benessere quando risiedi sul territorio italiano, qua la questione cambia. Quindi in questo caso la tassazione non è un qualcosa che va in perdita, ma è un qualcosa che tu stai dando allo Stato per garantirti determinati servizi. Ora, poi qua possono nascere 20.000 discussioni su no, ma in Italia non funziona questa, non funziona quest'altro. Io dal 2012 circa che ho iniziato un po' a girare tutta l'Europa, Stati Uniti, parte del Medio Oriente, così, ho iniziato a vedere un po' di situazioni. All'inizio anch'io la vedevo in questo modo sull'Italia, dicevo no, ma l'Italia questo non funziona, non funziona. Una volta che sono tornato in Italia, normalmente come turista, perché ultimamente passo, non so, durante l'anno, uno o due mesi in tutto in Italia, dico caspita, però in Italia molte cose funzionano. Abbiamo degli standard qualitativi molto molto alti rispetto a tanti altri Stati. abbiamo delle strutture di servizi che altri Stati si sognano. Quindi molte volte cerca di far passare questo concetto. È vero, in altri Stati puoi trovare delle tassazioni inferiori, però ci sono altri concetti che devi mettere in testa per capire se ne vale la pena trasferirti oppure no. E li vediamo nel prossimo punto. Appunto, l'ultimo punto, il quarto punto, il quarto aspetto è comprendere se sei pronto in questo momento al trasferimento oppure è meglio per te restare in Italia. Come ti dicevo, l'Italia, da quello che ho visto, è vero, per alcuni può essere una tassazione alta, ma secondo me è una tassazione, secondo me, onesta, nel senso rapportata a quello che poi viene dato. E in molti Stati dove ci sono degli standard qualitativi medio-alti, anche lì le tassazioni sono abbastanza più grosse. Questo serve appunto per garantire determinati servizi. Però nel momento in cui ti ritrovi a dire, ok, ho iniziato la mia attività in Italia, ho compreso quali sono le pressioni fiscali che ho effettivamente. Quindi non stare ad ascoltare quello che viene detto dai telegiornali alla pressione fiscale del 70%, questa cosa qua. Perché in realtà nel momento in cui inizi a operare sul territorio italiano, inizi un po' a informarti, a studiare qualcosina in più. Oddio, non proprio a parlare con il commercialista, ma magari a parlare con qualche tributarista, con qualche fiscalista, comprendi che si riesce un po' a smorzare questa pressione fiscale, a diminuire questo attrito. E comprendi poi che magari quel 30%, in tutto 35% di pressione fiscale totale che hai sul tuo regime fiscale non è poi così male per i servizi che vengono adatti. Se invece questa cosa ti va stretta, la vivi male, puoi prendere in considerazione di delocalizzare il tuo business e trasferirti all'estero. Però questo cosa comporta? Comporta che devi avere un business non più collegato all'Italia. Nel senso che, è vero, potrai avere clienti italiani, potrai avere alcuni fornitori italiani, ma non dovrà essere al 100% italiano. Ti dovrai trasferire all'estero proprio anche con la tua persona fisica. Quindi la residenza verrà cambiata, il domicilio verrà cambiato, iscrizione all'aereo, sarà lì presente. Dovrai prendere in affitto una casa in un altro paese estero. Dovrai valutare in questo paese estero quale sia il costo della vita. E, naturalmente, se è un paese con degli standard di qualità e di servizi inferiori rispetto a quelli italiani, dovrai prendere in considerazione una serie di assicurazioni medico-sanitarie, infortunistiche, viaggi e quant'altro, che pur sempre sono dei costi. È il termine di tutto. Fai la tua valutazione. Comprendi se affitto, trasferimenti tra Italia e questo paese estero, le varie assicurazioni, il costo della vita in loco. Alla fine dell'anno, quanto pesano di valore sulla tua vita? Questo valore, rispetto a quello che produci, in misura percentuale, quanto è? Da lì capisci, effettivamente, se la pressione fiscale che hai in questo nuovo Stato, con le spese che hai in questo nuovo Stato, possa valere la pena di essere rapportato con quella italiana, perché magari dici, ah sì, vado in quell'altro paese perché invece di pagare il 26% sulla società, perché in Italia sulle SRL vai a pagare il 26% sull'utile, cioè meglio 27, non ricordo la virgola, però intorno a 26-27%, più dividendi. Poi, magari dici, ah mi trasferisco in Spagna, mettiamo sotto questo aspetto perché i primi due anni vado a pagare il 15% sui primi due anni di utile, senza poi tenere conto delle tassazioni personali. Vado a Barcellona, ok. Barcellona quanto ti costa? Affitto? Dove? Sanità? Come sono messi? Ok, ho bisogno di una sequenzia medico-sanitaria. Valuta le due cose e magari per assurdo, solo per avere quei 10 punti percentuali in meno di pressione fiscale, alla fine dell'anno vai a pagare nettamente di più per tutti quei costi, che mi vengono a dire accessori, ma in realtà ti servono per la vita di tutti i giorni, quando bene o male potevi restare in Italia e anche beneficiare di servizi migliori o di, potevi avere un margine sui tuoi guadagni anche un pelo maggiore. Compresi tutti questi vari punti, questi vari aspetti, una piccola riflessione che mi viene appunto da quello che ho vissuto nel corso di questi anni. Prima di tutto, sviluppa reddito. Secondo, inizia a comprendere se puoi andare ad abbattere qualcosa sul tuo stato, dal quale hai iniziato il tuo business. Se oltre a questo non riesci a fare altro, puoi prendere in considerazione un trasferimento se il business è trasferibile, chiaramente, nel senso se tu hai un ristorante in centro a Milano e dici, ah no ma voglio gestire questo ristorante con la società extra, sarà un po' complesso, nel senso che si riesce in modi ultra ultra elaborati e spinti, però più delle volte non ne vale la pena per il fatturato che vai a fare, assolutamente no. Quindi inizia a spingere per creare reddito, comprendi come ottimizzare al meglio sul tuo paese, in questo caso l'Italia, dal quale hai iniziato il business, comprendi se può aver senso trasferirti o no, perché oltre alla questione di prezzo, di costo della vita devi anche capire che dovrai passare del tempo al di fuori dell'Italia e all'interno dello stato nel quale ti vai a trasferire, assolutamente, lì devi passare la maggior parte del tuo tempo e soprattutto, comprese queste cose, potrei dare una linea guida molto molto semplice ma anche ultra superficiale su un valore monetario di fatturato che inizia a far scattare l'idea di trasferimento o l'idea di ottimizzazione fiscale. Se stai iniziando e il tuo fatturato annuo non superi 100.000 euro, non prendere in considerazione il trasferimento, cerca di comprendere magari di più cosa possa tornare utile per abbattere una determinata parte tassatina in Italia, perché non ha totalmente senso andare a cercare un paese differente per ottimizzare la pressione fiscale italiana. Quindi, tieni un po' come spartiacque il 100.000 euro. Sotto i 100.000 euro, sotto i 60.000, 65.000 euro. Per l'appunto, con il forfettario, una persona in Italia per determinate attività, io mi sto rivolgendo comunque a un pubblico che si muove sul mondo digitale per lo più. Comunque va bene, nel senso si riesce a vivere bene, si prende come informazione in anticipo dicendo, ah ok, indicativamente un terzo di quello che ricevo come incassi in realtà uscirà come spese che vanno verso il fornitore stato italiano per servizi e finisce lì. Nel senso, già hai delle idee ben chiare su quale potranno essere i tuoi costi e quale margine ti resta. Quindi, se non superi questa soglia, non prendere troppo in considerazione e non spendere troppo tempo su questioni di ottimizzazioni fiscali, trasferimento all'estero, una roba o l'altra. Se invece vai oltre e stai portando avanti un business veramente che sta esplodendo, sta andando forte nel corso di giorni, nel corso delle settimane, dei mesi, ecco in quel caso sarebbe interessante iniziare a chiacchierare con dei fiscalisti e dei tributaristi anche a livello internazionale, senti sempre più campane che è meglio, nel senso non prendere solo una persona come massima esperta, ma inizi a sentire più fazioni e prendi queste informazioni e valla a mediare insieme e da lì capisci se è il tuo momento o meno di andarti a trasferire all'estero. Bene Hero, a questo giro non abbiamo parlato veramente di investimenti, abbiamo parlato comunque di una parte di investimento, infatti l'attività imprenditoriale ma anche l'attività di freelancer è qualcosa che è un investimento sulla persona per sviluppare qualcosa e spero che ti sia stato d'aiuto e anche di comprensione che l'Italia non è poi così male. Se vuoi avere e beneficiare di ulteriori informazioni anche sulla parte tassativa ti invito ad iscriverti alla community di Invest Hero, trovi il link qui in descrizione, non parliamo solo di tassazione, parliamo principalmente di investimenti, però è anche lì importante comprendere un paio di cose basilari sull'aspetto tassativo. Ci vediamo al prossimo video ma soprattutto ci vediamo all'interno della community. Ciao Hero!